Hai mai sentito parlare della scienza dei sistemi viventi? I nostri sistemi viventi sono fatti di materia che creano strutture fisiche. La più piccola è l'atomo. Quando gli scienziati vollero sapere di cosa erano fatti gli atomi, scoprirono che negli atomi ci sono piccole particelle subatomiche vibrazionali. Energia e spazio. Molto spazio. Ma lo spazio non è spazio. È fatto di campi energetici interattivi, che collegano le materie nell'universo e consentono lo scambio di informazioni tra energia e materia attraverso la comunicazione. L'energia esiste nei campi. Per esempio, vediamo l'espressione della frequenza della luce nel campo elettromagnetico. Ciò significa che la vita non è solo particelle fisiche, ma anche energia vibrazionale presente nel campo. Il flusso di informazione nel campo quantistico è comunicazione, che influisce sull'energia vibrazionale, che a sua volta modifica la materia attraverso la risonanza. Tutto ciò ha un effetto sulle particelle fisiche presenti nelle cellule di questi sistemi viventi. Infatti, condizionano l'energia con un tasso di 100 volte più efficiente di quanto la materia possa su un'altra materia. Se volessimo migliorare lo stato fisico del corpo umano, dovremmo influire sull'espressione genica vibrazionale dell'energia. L'espressione umana, ogni giorno, condiziona quella fisiologica. Questo processo si affida all'energia vibrazionale, registrando i nostri segnali individuali e ambientali. Queste sono cellule rumorose che comunicano tra di loro e con tutto il sistema vivente. Gli scienziati definiscono questo fenomeno come epigenetica. Questo paradigma ci ha fornito una nuova comprensione e ci ha permesso di sviluppare tecnologia per migliorare il sistema vivente. Questo approccio è sicuro, naturale ed efficiente, perché si basa sull'epigenetica e sulla meccanica quantistica. La rivoluzione epigenetica S-Drive ci permette di conoscere i fattori che possono condizionare la nostra salute e il nostro benessere in soli 15 minuti. Chiama il 0187 17 80 859 oppure il 393 91 42 000 oppure scrivi a info.epinutracell.it